Un uccello che nasce in una gabbia non ha alcun collegamento con il mondo esterno. Non sa niente del sole splendente, del cielo azzurro o delle alte montagne. L'idea di volare liberamente, circondati da tanta bellezza, sembrerebbe semplicemente una fantasia crudele. Dio vuole che ti dica che al di fuori della gabbia del peccato, della schiavitù e della costruzione della tua vita, c'è un mondo meraviglioso che è il regno di Dio. Non è una fantasia, è un mondo reale che non è mai conosciuto. Un mondo dove i peccati sono perdonati, dove c'è la pace con Dio e la vita eterna. La condizione? Pentiti dei tuoi peccati e ricevi Gesù Cristo come tuo personale salvatore. Questo sarà il momento in cui la porta della prigione si aprirà e tu sarai salvato, libero e al sicuro. Benvenuto nel regno di Dio! Come un albero senza terra non può crescere, così un cristiano senza una chiesa cristiana non può crescere nella fede. Quindi procurati un nuovo testamento, inizia a leggerlo e cerca una chiesa cristiana vicino a te. Che pratichi la fede cristiana, abbia una vera comunione con Gesù Cristo e credi nella Bibbia come parola vivente di Dio. Se hai bisogno di maggiori informazioni, visita il nostro sito web www.wdlm.at o contattaci via e-mail a kontakt, chiocciola, wdlm.at Saremo lieti di aiutarti. Saremo lieti di aiutarti.